Facci un momento, allora vieni, basta, punto, cioè non è una domanda, vieni qua, vieni punto, io ti devo identificare, se il documento mi identifico qua, se non hai il documento io ti porto, non funziona così, perché io ti devo identificare, io non ti posso, allora io posso chiamarmi Paperino, io cosa ne so, allora vieni, stai parlando otro, stai parlando Voi vi siete avvicinati, siete stati a un metro d'istanza, voi vi state avvicinati, noi stiamo lavorando. In decreto non c'è l'obbligo della mascherina, eh. Non è casa tua? In centro. Qua è casa mia, sei tu che ti sei avvicinato a casa mia? Ma io sto lavorando. Eh allora, in decreto non c'è l'obbligo della mascherina, eh. Come stai facendo? Sono sotto casa mia. Ah si? Basta dai, basta, lasciatemi stare, dai, oh, dai. Basta, non è successo niente, per favore. Abito qui a 50 metri, dai. Eh no, io posso stare a 50 metri da casa, per favore. E basta, ragazzi. La Costituzione, per favore. Ma questa è dittatura, per cosa? Non siamo criminali. Perché hai detto che siete criminali? E allora, perché questa scena? Che cos'è? Perché va tutto bene questa scena? Ma iniziato cosa? Iniziato cosa? È incredibile. Lei ha giurato sulla Costituzione. Non ti permette non se vieni almeno. Non ti permette. Non ti permette. Non ti permette. Non ti permette. Non te nemo. Non ti permette. Non ti permette. La signorina deve venire con noi. Ma noi venite comunque. Se ce ne viste qui. Ma... Questo è il polvo, ragazzi. Io sono incensurato, pago tutte le tasse, sono sotto casa mia, questo è il polvo, questo è il polvo. Ma noi stiamo lavorando, lo stiamo facendo da noi. Ho capito, ma mi dica che se c'è... ragazzi abito da 17 anni, qui c'è una rissa al giorno, non vi ho mai visti. E ma chi è che ha mai inclinato? Non vi ho mai visti, bottigliette e coltellate. Chi è che ha mai chiamato? Ma come chi è che ha mai chiamato? Chiamano di continuo, abito lì. Non ne ha mai chiamato. È incredibile, è incredibile. Perché cosa è questa situazione? Lo sai perché ti spiego io, questo signore che abbiamo preso noi, ha strappato le collanine di un vecchietto e camminava come voi. Io ho solo visto, guardi, uno che ha strappato la collanina, guardate. C'è la mascherina? C'è la mascherina? C'è la mascherina? No, no, questa cosa qui è una mascherina. Deve se può giustificare che ha tutto il diritto di farlo. Non mi chiede, non mi chiede, non mi chiede, non mi chiede, non mi chiede. Io mi informo sulle collanine. Si informano di che? A quale vuol dire? Ma è che sta in sale e lei si vede la costruzione. La polizia è arrivata. Ma guardi che roba, con dei ragazzi, mi dica che questi ragazzi hanno strappato la collanina. No, non sono loro. Allora perché? Perché questa scena? Guardi, 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 guardi l'esercito, guardi. Che c'entra? Ma come che c'entra? Questa voglia avvicinarmi a questa cosa è inaccettabile, è inaccettabile, lo dico per lei. Guardi che adesso le fanno i vaccini a lei. È una cosa inconcepibile. Parla soltanto non mi chiede. Ma cosa devo ascoltare? Io vedo, non devo ascoltare. Ragazzi, venite, va? Che tanto così è la cosa. Dai, vieni lì a che sei minorelle. Ma non è che l'assemblamento e quindi poi sei già arrivati. Io era ancora in casa e sono arrivati a te. E' un affare che ti ha fatto. Non lo fare mai se io lo fare. Non lo fare più. Dai, tu non farei anche questo. Non lo fare più. Non lo fare più. Non lo fare più. Non lo fare più. Allontana. Allontana. Giardà. Oh, ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Ma siete fai? Perché? Perché? Per quale motivo? No, ma non ci vedo. Ma che fai? Ha picciato qualcuna. Ha picciato un poliziotto. Ha fatto qualcosa. Oh, oh. Ma che fai? Ma che cazzo fai? Oh, mettermi la mano al pozzo. Oh, mi dobbiamo andare a vedere la tele. No, per favore. Guardate, ho guardato un po' che sono. Ma per quale motivo? Guardate, un ragazzino quello. Vai via, vieni via. Ma che te fai? Porco Dio. Guarda, guarda, guarda quanti sono. Ma che cazzo fai? Per! Porco Dio! Porco Dio! Ma che cazzo fai? Ma che te fai? Ma che cazzo fai? Vedete denunciati tutti. Tutti i denunciati. Guardate quanti sono. uno, due, tre, quattro, cinque, dieci no, io abito qui tutti in strada, tutti in strada, porco Dio dai, scendete, cazzo no, no, no no, no